Dai pannelli in legno alle luci incassate, il negozio Olivetti è un gioco infinito di dettagli che è quasi impossibile elencare, ma che enunciano il modus operandi di scarpa e la dipendenza dalle suggestioni. I lavori dei grandi dell'architettura, ma anche degli artisti contemporanei, ispirarono fortemente il veneziano, il quale nell'attingere da queste fonti, ricordiamo il suo celebre motto, se non sai, copia, seppe creare un proprio riconoscibile linguaggio, ricco di motivi formali e compositivi. Tutta la sua opera è avvolta da una sobria ed elegante impostazione classica che, nonostante i temi ricorrenti, non cade mai nella trappola del cliché. I percorsi stabiliti in base alla luce e ai punti di vista, i posizionamenti strategici delle statue, gli specchi d'acqua, il rapporto con la preesistenza e lo studio dei partiti decorativi sono il frutto di un lessico colto, forbito, in cui le scomposizioni di volumi si rivelano imprevedibili, i chiaroscuri dinamici e i dettagli sorprendentemente tecnologici.